il termine fotogramma chiave deriva dal mondo dell'animazione ma nel video editing ha un significato diverso infatti un keyframe rappresenta un certo valore di qualche parametro impostato dall'utente in un punto preciso della timeline cioè in un certo momento per esempio possiamo mettere un keyframe al fotogramma zero con un valore di opacità del cento per cento poi impostare un nuovo keyframe cinque secondi dopo con opacità dello zero per cento se riproduciamo il video otteniamo una dissolvenza in entrata della durata di cinque secondi come nell'animazione sinelera ricostruisce i frame intermedi per interpolazione facendosi che il cambiamento sia graduale e questo il concetto fondamentale dell'uso dei fotogrammi chiave li usiamo per apportare modifiche ai valori delle curve e degli effetti lungo la timeline cioè durante lo scorrere del tempo sono una sorta di interruttore e mettiamo al tempo da noi scelto per applicare un cambiamento a dei parametri in realtà sinelera usa un keyframe impostato automaticamente all'inizio di ogni traccia che raccoglie i parametri di default tale keyframe è appunto detto di default o predefinito è importante capire i valori di questo keyframe si abbiano all'intera durata della traccia a meno che noi non aggiungiamo di nostra volontà altri keyframe definire fotogrammi chiave aggiuntivi rispetto al keyframe predefinito è una delle tecniche più utili per creare cambiamenti dinamici per esempio se vogliamo muovere la camera o fare uno zoom o cambiare la posizione di una maschera per farle seguire che ne so un oggetto e così via si devono usare ulteriori keyframe oltre a quello predefinito in sinelera possiamo usare il keyframe per quasi ogni parametro di composizione e per quasi ogni parametro dei plugin di effetti i parametri possono essere rappresentati graficamente in vari modi curve interruttori modi e così via i relativi keyframe possono essere dei punti quadrati sulla curva detti anche input control possono essere il simbolo di una maschera o di un modo o una chiave sulla traccia dell'effetto e così via per visualizzare questi parametri dovremmo già saperlo si possono spuntare le relative voci nel menu visualizza oppure ancora meglio aprire la finestra mostra sovrapposizioni dal menu finestra nella 5.1 è anche molto colorata la finestra mostra sovrapposizioni più bella e più comoda da usare ma la vedremo più avanti in questo stesso video apro una parentesi per precisare insieme l'erra un keyframe non è posizionato su un frame infatti il punto di inserimento a definire il keyframe e tale punto è sempre situato fra due frame mai sopra uno di essi siccome fra due frame non ci sono dati video allora noi non potremmo vedere niente sul display solo uno schermo nero allora si nel erra come comportamento standard mostra a video il fotogramma successivo all'insertion point parliamo ora del primo tipo di fotogramma chiave i keyframe di curva selezioniamo per esempio la curva di solvenza o zoom o velocità per far apparire la relativa curva di bezer sulla timeline sia nella modalità drag and drop che nella modalità cut and paste avvicinando il cursore del mouse alla curva diventa una freccia nera possiamo fare clic per creare il keyframe e poi trascinarlo per impostare il valore voluto possiamo cliccare sopra il quadratino e trascinare ogni volta che vogliamo modificare il suo valore creando almeno due keyframe la curva fra di loro sarà una curva smussata però se vogliamo far comparire le maniglie per avere un maggiore controllo sulla forma della curva dobbiamo fare il solito control click il quadratino indicante il keyframe è chiamato input control il punto indicante la maniglia di bezer è chiamato output control invece premere shift click ha un comportamento strano permette di spostare solo verticalmente l'input control e solo al valore del keyframe più vicino così da pareggiare e linearizzare il pezzo di curva che li unisce lavorare con precisione su una curva non è facile anche a causa delle piccole dimensioni un'idea furba è aumentare l'altezza della traccia tramite campo zoom dedicato che abbiamo visto nel video 2 facendo click su di una curva si creano keyframe su ogni traccia dello stesso tipo e se intrecciate si muoveranno all'unisono facendo doppio click su un input control se creano keyframe anche nell'altro tipo di tracce però se poi lo trasciniamo non si trascinano contemporaneamente anche tutti gli altri keyframe ma solo quelli della stessa tipologia di traccia cioè un video o audio vedremo più avanti i keyframe senza tipo che dovrebbero passare sopra questa limitazione ovviamente deve essere attivo il non sono sicuro ma credo che questa sia una novità della 5.1 a proposito di questa è giunto il momento di esaminare in dettaglio la finestra mostra sovrapposizioni la finestra show overlay presenta le prime quattro voci separate dalle altre da un trattino per indicare che sono azioni cui non è possibile attivare i keyframe automatici poi ci sono le nove voci a cui invece è possibile anzi obbligatorio attivare il pulsante dei fotogrammi chiave automatici queste voci sono colorate dello stesso colore delle relative curve e hanno a lato un cerchio che apre il color picker per poter modificare il colore come preferiamo infine ancora separati da un trattino ci sono tre voci che fanno comparire sulle tracce i simboli associati alle loro funzioni abbiamo già visto per esempio il simbolo delle maschere nel video precedente invece tornando alle curve nella timeline se facciamo il click adesso su un input control si apre il relativo menu pop up la prima voce sfuma cioè la curva di dissolvenza apre uno slider che permette una regolazione più precisa in virtù anche di un campo numerico che mostra il valore esatto per me è una bella trovata le altre voci le vedremo dopo nel secondo tipo di fotogramma chiave cioè il keyframe interruttore c'è poco da dire perché ne esiste solo due valori acceso o spento si vede infatti la curva rimanere sempre lineare e solo nella massima posizione in alto cioè on o nella minima posizione in basso cioè off il control e lo shift non funzionano per questo tipo di curva il terzo tipo di fotogramma chiave un tipo molto importante devo dire sono i keyframe automatici attivabili con l'apposito pulsante nella finestra programma oppure nella finestra compositore questa modalità è spesso più utile dell'aggiungere manualmente i keyframe alla curva ogni volta e modifichiamo il valore di un parametro viene creato un keyframe sulla timeline ovviamente nel punto di inserzione poche sono molti parametri che possono creare automaticamente il keyframe è consigliabile lasciare il pulsante inattivo fino a quando ci serve e poi ricordarsi di disattivarlo subito dopo l'uso altrimenti guardate cosa può succedere se giochiamo per esempio con lo slider dissolvenza della patch bay mentre è in funzione la riproduzione del filmato molto bello e divertente da vedere vero ma poi ci troviamo ad avere a che fare con centinaia di keyframe con il pulsante disabilitato abbiamo comunque uno strano comportamento se abbiamo due keyframe lungo la curva muovendo lo slider della patch bay viene cambiato il valore del primo keyframe e non del secondo non so se una cosa utile ma ci ritorneremo più avanti ci sono molti parametri che possono essere abbinati solo a keyframe automatici in genere perché le curve sono più complesse oppure più difficile regolarle con precisione per esempio tutti gli effetti necessitano dell'automatismo perché spesso gestiscono una moltitudine di parametri anche le traslazioni su x ed y della camera e del proiettore lo richiedono mentre lo zoom lavora solo su z e quindi funziona anche senza automazione il quarto tipo di keyframe riguarda la finestra compositor questa parte di spiegazioni non è completa né molto chiara me ne scuso in anticipo ma ci sono cose che proprio non ho capito nel video scorso abbiamo già visto l'uso dei keyframe automatici nella finestra un positore quando abbiamo fatto un esempio di mascheratura ora faremo altri esempi come detto poco fa lo spostamento sul piano della camera o del proiettore richiede due parametri x ed y questo rende la loro gestione complessa e si deve ricorrere ai keyframe automatici lo zoom invece riguarda il solo asse z ed è quindi più semplice facciamo l'esempio del proiettore nella nostra traccia video oppure sulla time bar del compositor portiamo l'insertion point all'inizio e poi attiviamo i pulsanti dell'automatismo è cosa furba spuntare la voce asse x e asse y nella finestra mostra sovrapposizioni in modo da vedere direttamente le curve sulla timeline e i keyframe inserite automaticamente muoviamo leggermente la gabbia del proiettore per creare primo fotogramma chiave infatti se ricordate si crea un keyframe automatico ogni volta che vale il valore di uno dei parametri il piccolo spostamento serve proprio a questo ora andiamo avanti qualche secondo e muoviamo il proiettore in una nuova posizione magari scegliere un punto distante per enfatizzare il movimento si creerà un secondo keyframe e qui cominciano le cose che non ho capito il manuale di sinelera cv a questo punto dice che si forma un secondo box rosso nella nuova posizione non solo una linea unirà i due box lungo quello è chiamato percorso del moto ma non è finita qui se creiamo altri keyframe in nuove posizioni creiamo tanti nuovi box rossi e tutti sono uniti dal percorso del moto il problema che a me non succede sbaglio qualcosa non capisco qualche concetto fondamentale è una nuova caratteristica della 5.1 non documentata in ogni caso nella timeline compaiono correttamente curve keyframe e su di essi si può agire ma nella timeline non nella finestra al compositore nella finestra compositore esista sempre una e una sola box rossa che si muove a seconda di dove la mettiamo riporto le parole esatte del manuale così mi potete dire se interpreto male comunque sia alla fine di tutti i movimenti e vogliamo disabilitiamo il pulsante dei keyframe automatici e controlliamo il lavoro fatto scorrendo il puntatore su e giù lungo la time bar o iniziando una riproduzione se succedesse come descritto nel manuale i percorsi del moto potrebbero essere editabili con il classico click più drag nel mio caso invece bisogna andare sulla timeline cercare gli input control dei keyframe e poi trascinarli con il click più drag con questo trascinamento possiamo anche raddrezzare le linee che in partenza erano smussate si usano i comandi attenua curve o segmenti lineari che si trovano nel menu pop up con il click destro ma c'è di più con control più clic possiamo far comparire le maniglie di belzir cioè gli output control per modificare la forma della curva in maniera sofisticata potenza di un cine l'era passando dal proiettore alla camera il suo movimento ha un comportamento simile a quanto visto finora gli automatismi della camera sono usati soprattutto su immagini ferme per esempio fotografie con l'intento di produrre dei panning cioè panoramiche che scorrono sulle varie parti dell'immagine praticamente si dovrebbe creare più box verdi collegati fra loro dal percorso del moto ma ancora una volta a me non lo fa e non so che dire spero che qualcuno mi sappia chiarire passiamo ora a descrivere il menu fotogrammi chiave cioè parliamo di come spostare tagliare copiare e incollare i keyframe è importante dire per fare queste operazioni non ci devono essere in out point sulla timeline perché interferirebbero con quelli applicheremo noi successivamente inoltre solo i keyframe delle curve abilitate nel menu visualizza oppure nella finestra mostra sovrapposizioni possono essere oggetto di editing l'operazione più usata certo non da me è la replica di una curva da una traccia all'altra per fare una coppia stereo il primo passo ormai non dovrebbe sembrare strano è armare la sola traccia audio di cui vogliamo copiare i keyframe e disarmare tutte le altre e si usa quindi shift più click adesso modifichiamo la curva velocità che prenderemo come esempio introducendo tutti i keyframe che vogliamo ora mettiamogli in out point in modo da circoscrivere la zona dei keyframe che vogliamo copiare apriamo il menu fotogrammi chiave e scegliamo copia fotogrammi chiave oppure usiamo shift più c che è la scorciatoia in questo modo li abbiamo messi nella clipboard con un nuovo shift click rendiamo armata la sola traccia dove vogliamo copiare il tratto di curva apriamo il menu fotogrammi chiave e scegliamo incolla fotogrammi chiave oppure facciamo shift più v abbiamo così ottenuto di copiare i keyframe da una traccia di un tipo ad un'altra traccia dello stesso tipo notare che per i keyframe non si usano le classi scorciatoia c e v ma bensì shift più c e shift più v andiamo avanti ricordate che anche quando non abbiamo creato nessun keyframe esiste sempre fotogramma chiave predefinito che comprende tutta la traccia si dice infatti che ha come valori dei parametri globali il default keyframe esiste anche se non è mai visualizzato e può essere copiato e incollato quasi come fosse un keyframe normale basta usare le voci copia fotogramma chiave predefinito oppure incolla fotogramma chiave predefinito le scorciatoie sono alt più c e alt più v ho detto l'azione un po diversa dal normale copia incolla il keyframe predefinito a valori standard globali se li vogliamo imporre ai keyframe normali si usa alt più c ma poi si incolla con shift più v cioè il normale incolla in questo modo nella clipboard memorizziamo i valori del default keyframe ma nella traccia l'incolleremo con il normale shift più v capito la differenza possiamo anche fare il contrario cioè copiare i valori di un normale keyframe nella clipboard e poi da qui incollarli sul fotogramma chiave predefinito cambieranno così i valori globali del keyframe di default quindi attenzione ad usare questo comando per di più finché nella traccia restano dei keyframe normali non ci possiamo accorgere del cambiamento del keyframe predefinito solo quando sono tutti eliminati allora la traccia subirà l'influenza dei valori di default e ci possiamo rendere conto se sono cambiati o no infine per cancellare velocemente tutti una parte dei keyframe si seleziona la zona che li comprende e poi si usa fotogrammi chiave cancella fotogrammi chiave oppure più comodamente shift più del per cancellare solo uno si può fare clic adesso sull'input control e scegliere cancella fotogramma chiave oppure si può trascinare il quadratino fino a soprapporlo a quello di un keyframe vicino resterà solo quest'ultimo se tale fotogramma chiave che trasciniamo per eliminarlo è intrecciato tramite gang fedal con i relativi keyframe nelle altre tracce anche questi verranno eliminati ci sarebbe un'altra voce nel menu impostazioni che si chiama fotogrammi chiave senza tipo in teoria dovrebbe servire a rendere copiabili fotogrammi anche fra tracce di tipo diverso cosa normalmente non possibile in prate però non so come usare questa funzione nei manuali non ce n'è traccia siamo arrivati alla fine del video nel prossimo alcune operazioni extra e le conclusioni